Io vengo da un altro mondo, da un altro quartiere, da un'altra solitudine. Innanzitutto, noi dobbiamo lavorare le nostre idee come se fossero dei manufatti, ma la solitudine. Non avevo mai passato il Natale in Carnia, nel paese dove sono nato a Ravascletto. Così, ho iniziato il mio viaggio con cuor leggero e con l'anima aperta all'incontro con la mia genna. Grazie a tutti. 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 E' veramente cosa buona e giusta, nostro dovere è fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, egli verbo invisibile apparve visibilmente nella nostra carne per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta e ricondurre a te l'umanità dispersa. Per questo dono della tua benevolenza, uniti a tutti gli angeli, cantiamo esultanti la tua donna. Grazie a tutti. 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 Musica